Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, iscritti più ridotti, bentornati su Gioca di Spoh Io sono Giovi Spoh e questo è un video con la Facecam Sì, aspetta, mi scontro un po' di più da qui Ok, questo è un video con la Facecam In questo video vedrete qualcosa di interessante Allora, prima di azzandarmi Volevo dirvi che questo video non è una mia idea È un'idea di quei due sul server Vi considerate questo video? In pratica sarò io contro Youtube Sì, contro Youtube, ma i sottotitoli di Youtube Se avete visto il loro video, avete visto come i sottotitoli su Youtube facciano schifo Vediamo se la stessa cosa vale per i miei video In questo primo episodio, forse unico Ditemi voi cosa ne pensate di questi episodi Lasciate un pollice all'insù sullo e-tail Il secondo episodio di questa, diciamo, miniserie Di questa serie, se vogliamo chiamarla così, chiamiamola E ditemi cosa ne pensate se volete altri video di questo genere Se vi fanno divertire questi video Ditemi voi anche su che video potrei farlo Comunque, in questo video ho fatto squadre da provare numero 1, Foot15 E' il video nel quale scrive una squadra da provare su Foot15 Quando non era ancora uscito FIVA15 Dunque, vi ripeto Se volete che continui con altri video di questo tipo Se vi divertono, sarò felice di farvene altri Comunque, ripeto Non è una mia idea È un'idea di quei due sul server Dunque Io direi di procedere con Questa Questa pazia Questa stranezza Comunque, il video è questo Devo mettere un attimo il muto Se no, da un po' fastidio Oppure, giusto appunto, un po' di audio E comunque Io leggerò i sottotitoli E partirà il video Buona visione Buona visione Ciao a tutti ragazzi Belli e brutti E gli iscritti più di tutti Bentornati su Twitter Disponibile sotto giudice Può anche quest'anno Oscuotere Villareal Infatti con gelato ricca Nono drunk Quindi anno scorso sperimenta Sì E' una squadra dopo la prova Una serie di scoprire come questi squadre Da Da provare Questo numero pubblicato Scotti prova 1 Il modulo re Un modulo Che i morti Che cazzo c'è 4-1 Tube Il classico 4-2-1-2 Molto versatile In attacco e in difesa Facevano Ottimo il portiere Porta in portiere Tgcom 24 Un certo crollo Perché tale tastistica Sembra alquanto Non sarà costosissimo Potrebbe essere anche una squadra fatta Primo difensore Centrale Porto Pizzetto Centrale Abbiamo Tumore Che cazzo tumore Colo Turei Il fratello di Yaya Ah questo l'ha azzeccato Stato redatto Maps Ancora serba Un ottimo potenziale 74D 4D 78D 380 edificio Avvocato difensore centrale Con la novità Il pincio adottati Eldo Questo Sutton Si tratta di Negombo Con due uova Con due uova 83 di velocità Con 70 cb Di difesa Di 77 di fisco Mamma mia Una Ah questo l'ha azzeccato Mamma mia Una 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 Giocatore super Battiato Su su sinistro Urbi Emanuelson Nella Roma Argento Non credo che costerà mare Puntata a 4 velocità Però Si si salo Dove live suonano gli sport Soprattutto con siringa e sentinella Miglior terzino destro Opelage Che idea Platino Quante pastiglie 191 70 cb Rate del fisico Fisco Valori ottimi Ottimi cocktail Spostiamo qui Questo tweet Così come cdc Abbiamo Un mostro Il fisico E Si tratta di Chiosche 74 di velocità Si fanno Le difesa Tanto Difficile mamma mia Un bestione Il mastino del centro campo A me questo sembra giusto Colui che Sì Vi salverò il culo Sciamone Un bel po' libero Com'è sterno sinistro Io metterei Dice figlio Dia Davagnon Ebbe tre buono Come esterno Ciao Come stai Come lo vedono Come Com'era La Perché Coal Coal avere il tiro C'è Cervinia Si sono riuniti Roma Non Non è acqua grande Ritiro Quindi Vabbè ci sta ci sta Come sta Lamberto abbiamo Banca sto Milano Galassi Malattia Santo Dio Zomacox Tanto Chi di velocità 74 pt Ro E dovrebbe essere anche mancini Quindi aperitivi Asti mancini Orientare Arredamento GC dolci In questa squadra Da provare Lascia un angolo Giocatore della Roma Belli giochi Quindi Forse avete capito Chi Il quale attaccanti Andrò ad inserire Anche Ad inserire Come tu La cena Costante di progettato E 71 di questo mese Di fassa Tentando di Discontandosi Che cazzo Discontandosi 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 Di Vicenza Veramente completo Sua mamma Si può fare di tutto Con questi statistici 10 Cici Ciccipicci O città Quindi Omceo Capì Stato versato Del mio parere Quindi Punte di diamante Se avranno Lo stesso tipo Di banchetti Anna Quest'anno Si tratta Gai Romero Romeo Lukaku Lukaku Belgio Quinta intesa Con Con Micaela Andare con l'altro Che cosse Con Lukaku Belgio Quinta intesa Con Micaela Andare con l'altro Attaccante Manca il tempo Belgio Torna 4 di velocità 80 di Gigo Tutti non dici Cipro Mamma mia Adesso Super giocatore Siamo qui Studiamo Doping Triplice Intesa con Mica Max L'altro Attaccante L'altro Bar E certo Per eccellenza Si tratta di Christian Prendizze Fortissimo Christian Prendizze Quante volte Mi ha fatto Bestemmiare Questo gioco Questo è giusto Questo è giusto Perché Euro Un giocatore Che sembra Scarsi tagli Overall Però Talmente Bargatto Che dorme Il fatto Egli fa Ma di testa L'iPad In Divix A DVD I cosci I piedi I mani Se è semplice Deve segnare A bergo La pace Dopo questa E La squadra Se avete Miglioramenti Accorgimento Non è stata Come entrare Come entrare Dalla serie A me piace La so bella I pollici All'insù Serve appunto Futuro Ascolti All'insù